È ripreso questa mattina all'Aquila, con le ringhe degli avvocati difensori, il processo alla Commissione Grandi Rischi. Il primo a parlare è stato l'avvocato Marcello Melandri, che assiste a Enzo Boschi, seguito dal difensore di Franco Barberi, l'avvocato Luigi Petrelli, e da Enzo Musco, legale di Gianmichele Calvi. I PM Fabio Picuti e Roberta Davolio avevano chiesto quattro anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo plurimo a tutti e sette i membri della Commissione. Franco Barberi, presidente vicario della Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis, già vice capo del settore tecnico del Dipartimento di Protezione Civile, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del Centro Nazionale Terremoti, Gianmichele Calvi, direttore di EoCenter e responsabile del progetto Case, Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova, e Mauro Dolce, direttore dell'Ufficio Rischiosismico di Protezione Civile. Secondo l'accusa, durante la riunione della Commissione del 31 marzo 2009, vennero effettuate analisi superficiali, inadeguate e colposamente ingannatorie dello sciame sismico che da mesi stava interessando l'Aquila e il suo comprensorio, e furono fatte affermazioni banali, autocontradittorie e fuorvianti, alle quali però, ed è questo il punto, molti aquilani credettero, venendo indotti a rimanere in casa anziché uscire, come avevano sempre fatto. È bene ricordare che le richieste di condanna formulate dai PM si riferiscono alla morte di 29 persone, mentre per il decesso di altre sette gli stessi PM hanno chiesto per gli imputati l'assoluzione. Nella ringa pronunciata questa mattina, l'avvocato di Enzo Boschi, Marcello Melandri, ha impostato la linea difensiva spiegando come la Commissione Grandi Rischi non fu convocata per tranquillizzare la popolazione, ma per la ragione opposta, ossia per dare ampio risalto mediatico al fatto che i terremoti non sono prevedibili. Non metto in dubbio che gli aquilani siano stati riassicurati, ha detto Melandri, metto in dubbio che sia stata la Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, a farlo. Al termine della sua orazione Melandri ha riconosciuto il grande lavoro fatto dalla Procura, ma ha sorvolato sulla domanda di una cronista che gli aveva chiesto come mai, se la Commissione non volle rassicurare nessuno. Un suo membro, Bernardo De Bernardinis, rilasciò la famosa intervista in cui invitava gli aquilani a stare tranquilli e bere un bicchiere di Montepulciano.